Salve a tutti e bentrovati. Oggi arriviamo all'ultima tappa del viaggio nella Grecia antica. Vi presento la Medea di Euripide. Nel farlo mi tolgo anche gli orpelli e mi sono raccolta i capelli per assumere un'aria diciamo più seria, più truce, essendo questa una figura tragica, cosiddetta tra virgolette della cattiva, ma non è così semplice come potrebbe apparire. Tra consapevolezza e ambiguità la figura di Medea, una donna che uccide i suoi figli perché il marito l'ha tradita e la cui sofferenza crea una sorta proprio di lacerazione interna, la vittoria sul mondo maschile prevaricatore coincide ineluttabilmente anche con la sua tristissima atroce rovina. Qui davvero la contraddizione si fa molto drammatica, agghiacciante. Gli aspetti di modernità cerchiamo di andare a rintracciarli piano piano e sono diversi. Rimane sempre in continuo dialogo con proprio la sofferenza, con quelle che possono essere le sensazioni discordanti degli spettatori e con una notevole capacità di autoriflessione. Euripide ci porta là a incontrare dei vivissimi contrasti interiori, profondi. È una figura inquietante questa Medea, con il suo passato di magia oscuro, affascinante, molteplici e discordanti sono le emozioni che suscita. Dapprima è innegabile che ci trovi solidali con lei, comprensivi verso la sua situazione di donna tradita negli affetti, che rischia addirittura di essere ripudiata, allontanata. Dopo che ha aiutato suo marito, che non è uno qualunque, ma trattasi di Giasone, nelle sue pericolose imprese, quelle degli argonauti, diventando un'eroina forte quanto lui si può dire e che supera proprio ogni sofferenza, ogni dolore, lo aiuta, lo affianca. Ma cos'ha di peculiare? La sua conflittualità contraddittoria era tipica, tipica della tradizione classica, ma di questo noi non ne siamo a suoi fatti. Diciamo che Euripide ricerca proprio il forte impatto su noi, spettatori, fruttori. Ci riesce ancora oggi la tempra universale che possiedono tutte le vere opere d'arte, quelle che in realtà non hanno tempo, sono universali. E questa tragedia è davvero un capolavoro indiscusso. Il teatro è corinto, lo spazio chiuso della dimora regale, che accoglie le grida, i lamenti della donna. E certamente nella scena finale la soluzione scenica è di una drammaticità potente e fortemente perturbante. Giasone dà l'ordine di aprire le porte e al di sopra della facciata della casa si avverte la presenza dell'assassina sul carro. Perché lì, sul carro, ci sono i suoi figli. E dobbiamo immaginarlo trascinato dai serpenti alati. Mentre nello spazio casalingo viene pensata la vendetta, si intrecciano gli incontri, i dialoghi tra Medea e Giasone, Creonte, che in questa tragedia ha un ruolo di secondo piano. È il pedagogo, e poi che intraprende invece una sorta di dialogo con lei come consigliere, come educatore. E poi l'altro dialogo ennesimo ce l'ha, davvero emozionante, commovente, straziante con i figli. La donna portava una maschera, ma forse non dall'inizio. Essa era, è il simbolo del dolore, del pianto, che nella tradizione veniva solo evocato verbalmente. E la nutrice è chiamata testimone di questi imminenti eventi luttuosi. Medea si rivolge al coro, composto da donne, ed esprime i suoi sentimenti di rabbia, mediante delle frasi spezzate, ma in generale i suoi discorsi mostrano un'impalcatura solida, non sembra vacillare. Una linea coerente, dal principio alla fine. Lucidità e straordinaria capacità di autoriflessione proprio accompagnano questa tempesta emotiva scatenata dal tradimento di Giasone e poi dal proposito di sopprimere i figli. Lei si rende conto che l'impulso passionale, la spinta emotiva di punire il marito, si impone sulla sua stessa capacità di volere. E dice, capisco quali mali dovrò sostenere, ma più forte dei miei propositi è il timos, che è per gli uomini causa dei più grandi mali. E la ragione infatti viene sconfitta dal timos, da questo stato d'animo emotivo che crea una sorta di dissociazione. Lei chiede al timos di risparmiare i suoi figli, quasi come se fosse un'altra persona al di fuori, che gli può impedire questo gesto. Che l'essere umano appaia dominato dalla passione lo ritroviamo nel mito, in Dioniso, nelle tragedie, in letteratura. Si esprime proprio come processo elementare, istintivo, originario. Ma ciò che di nuovo proprio compare in Medea è che lei riesce davvero a riflettere sulla sua stessa passione e mediante l'utilizzo del raziocinio supera la condizione personale e la inserisce in un contesto più vasto di potere, di tipo proprio di meccanismi di potere universali. Così come mitico ancestrale è il legame che vede Medea in rapporto al mondo primitivo. Lei infatti è una maga e aiuta Giasone a superare la difficile prova della Colchide. Lei nel mito degli Argonauti viene proprio presentata come sapiente. Pensate che poteva ringiovanire gli uomini e trasformare i veleni in oro. Sembra quasi una sorta di alchimia, di alchimista, di donna alchimista e padroneggia tutte le formule magiche, i parafarmacos, i veleni che uccidono rendono invulnerabili. Pelia tolse il trono al padre di Giasone che lo rivendicò e sempre Pelia per liberarsi da lui lo mandò alla ricerca del vello d'oro custodito da un drago. Medea aveva promesso alle figlie di Pelia che se avessero tagliato a pezzi il proprio padre e ne avessero bollito le membra lo avrebbero fatto ringiovanire. Pelia naturalmente morì e Medea e Giasone fuggirono a Corinto quindi con questo escamotage direi piuttosto truculento. Lei aveva rischiato per lui e gli aveva messo a disposizione le sue arti di cui padroneggiava magistralmente i segreti ma non solo padroneggiava questa cultura magico primitiva che fa da sfondo e di contraltare al tempo stesso agli accadimenti agli avvenimenti ma lei proprio diventa il simbolo di questo sapere arcaico e al contempo però si affaccia il nuovo. La donna si pone sfacciatamente malvagia. Il male ci vuole come dire non va occultato non va mascherato. Le donne quanto gli uomini possono avere seppur minore dimestichezza con le armi ma un animo altrettanto sanguinario. Questo è la truce cruda verità che pare ci voglia suggerire e l'aspetto preponderante di questa vicenda tremenda di infanticidio e di autodistruzione della donna è il fatto proprio che punisca il tradimento colpendo al tempo stesso anche se stessa. Come Prometeo Antigone anche queste figure stessa cosa ma rispetto a Prometeo e ad Antigone il suo è un atteggiamento di sfida nei confronti dell'autorità. Anche l'intima conflittualità, la tensione interiore della donna non hanno riscontro né in Prometeo nel mito di Prometeo né tantomeno nella calma pacatezza di Antigone di cui già fece un video tempo fa. A tre anni di distanza dalla Medea Euripide scrive poi Lippolito e attribuisce a Fedra la consapevolezza del fatto che si conosce il bene ma per viari e ragioni non lo si mette in atto e quindi lui indagherà ancora successivamente proprio i concetti di bene e di male. È evidente polemica con l'affermazione di Socrate secondo cui la conoscenza del bene come ciò che è utile a noi stessi si correla di per sé alla sua stessa messa in atto. Quindi se conosco il bene allora lo metto anche in atto. Se non lo metto in atto è perché non lo conosco. No, pare di no. Medea contraddice ed Euripide con lei contraddice questa posizione. E infatti in Medea non ci sono prese di posizione contro Socrate ma il suo modo di porsi ci parla chiaro circa il disaccordo con il pensiero socratico. E lei infatti purtroppo vi è la consapevolezza del male, la convinzione nel volerlo compiere. Il verbo tolmeso esprime l'osare, l'avere la volontà di fare. Lei è molto consapevole anche della sua infelicità di madre che la vendetta non allevia naturalmente ma al contrario la scena con i figli davvero quella quella parla da sola. Alla vista dei bambini proprio un grave turbamento emotivo la scuote bravissimo Euripide davvero vi consiglio di leggere con attenzione questa parte anche magari ad alta voce. Si crea poi proprio una forte sinergia tra lei e il coro che compiange il dolore della donna. Da una parte il coro la chiama Erinni quindi ne riconosce la spietatezza sanguinaria ma al contempo la chiama Talaina, misera. E in effetti lei è Erinni e Talaina e lei abbraccia i suoi figli e rimangono uniti nella comune infelicità, nell'orribile destino che incombe e per due volte si fa forza per estinguere il desiderio di desistere perché vorrebbe in realtà desistere perché è contro natura questo infanticidio per una madre ma invece si fa forza per farlo per perpetuare questo proposito, questo agghiacciante proposito. E il vero antagonista di Medea è Medea stessa. Questo fatto di essere noi peggior nemici di noi stessi, questo essere consapevoli e combattuti da impulsi contrastanti, questa ridda di emozioni e la lucidità che poi guida molto spesso alle nostre creazioni. Questa è la parte di ombra che in ognuno di noi si ha senza ovviamente arrivare a l'infanticidio ma come simbolo di quel male che in ognuno di noi, noi con le nostre ombre profondamente umane e le nostre drammatiche lotte interne. I bambini sarebbero comunque stati uccisi dai nemici e questo fa percepire come un senso di necessità e quindi vi è questo ultimo abbraccio, questa valenza patetica in cui già si sente la nostalgia verso di loro fino al limite di un dolore insopportabile che porta la protagonista a non essere nemmeno in grado di volgere lo sguardo verso di loro. Giunti fino a qui devo interrompere un attimo questo momento che mi sono fatta prendere da una certa enfasi ma vi rammento è importante il concetto aristotelico di catarsi tragica. Lo spettatore infatti dopo aver patito, sofferto, dopo essere passato tra paura e commiserazione supera e si purifica dai fatti a cui ha assistito e che ha fatto suoi. Questa è la catarsi tragica e il ruolo della tragedia in questo senso è fondamentale anche se in questo caso preciso non si assiste come poi in altre tragedie di Euripide non si assiste a un atto liberatorio vero e proprio. La donna pare essere caduta invece come nell'indifferenza e non aspetta nessuna semplicistica punizione per che ha compiuto il male. Giasone piange si contrappone alla donna che pare non provare dolore pare essere come anestetizzata scioccata e nel suo shock indifferente e alleggia un'atmosfera di estrema cupezza senza nessuna liberazione senza nessun sollievo poi vedrete voi procedendo nella lettera nella lettura se rintraccerete proprio questo e un tema centrale è poi il rapporto uomo donna sviluppato in modo che Medea possa definire Giasone il peggiore degli uomini e le donne del coro che sono di Corinto sono a lei solidali lei è straniera a Corinto non ci sono leggi che la tutelino dal tradimento rischia l'esilio ci si aspetta solo che sia Zeus a farsi garante della giustizia e dei sentimenti e qualcuno in modo sibillino fa riferimento all'insaziabilità erotica di Medea. L'eros rimane sospeso sottratto quasi sempre espresso ma mai fino in fondo ecco i rapporti sociali legami legati proprio ai luo ai ruoli l'uomo che va in guerra la donna che partorisce il rapporto del dentro e del fuori dell'ambiente cioè casalingo e dell'ambiente invece dell'esterno della polis sottolinea proprio ambiti e spazi diversi e il femminino in Medea ha una portata rivoluzionaria viene detto mai stato così incisivo ci si richiama proprio al carattere eversivo anche della poetessa Saffo la femminista di lesbo in Medea gli antagonisti sono Creonte e il tema del letto d'amore di morte che già abbiamo visto in un'altra chiave quando abbiamo parlato di Alcesti si sviluppa e proprio contesta la tradizione e la sovverte e anche l'intersecarsi del rapporto uomo dio è molto presente fateci attenzione e sull'ambiguità del testo ci si richiama a vermont che proprio nel testo tensione e ambiguità nella tragedia greca dirà che solo per lo spettatore il linguaggio può essere trasparente a tutti i livelli nella sua polivalenza nelle sue ambiguità ma ciò che comunica il messaggio tragico quando è compreso è che esistono nelle parole scambiate dagli uomini zone di opacità questo verna mette in luce e zone di opacità e di incomunicabilità le parole scambiate nello spazio scenico per il verna non hanno tanto la funzione di stabilire la comunicazione tra i personaggi quanto invece di fissare blocchi e barriere l'impermeabilità proprio degli spiriti e delimitare i punti conflittuali inoltre anche ci si richiama all'uso dei nomos delle leggi e famose il dialogo tra creonte e antigone mi richiamo sempre alla tragedia precedente lei non contesta che esistano i nomoi della città a cui si riferisce creonte ma non a essi si riferisce antigone si richiama altri nomoi correlati all'ade il loro dissenso mostra proprio allo spettatore che possono esistere più modi più sensi e quindi evidenzia delle duplicità di significato proprio una valenza polisemica polisemantica possono esserci ce lo chiediamo più di due significati o esiste sempre una conflittualità in qualche modo binaria che è un po il caposaldo in cui poggia la tragedia di euripide e anche la tragedia in genere e mostra la sostanziale in comunicabilità dei personaggi e diciamo che in medea moglie madre rabbia dolore il tradimento e l'amore materno sono in conflitto acceso nello stesso personaggio un conflitto interiore molto molto moderno come è stato notato perché c'è proprio questo senso anche di consapevolezza di lucidità di introspezione quasi psicologica che per un antico non era poi così immediato e il tragico infatti poi non consiste tanto nel non sapere quindi nell'andare verso l'ignoto ma nel sapere e anche in questo è molto moderno ciò non è rassicurante assolutamente è un'infelice verità e non ha nulla di uniforme di lineare apro qui una breve ma piacevole parentesi sui mitologemi a me sì cari infatti se amate il mito come me andate a leggere le note a pie pagina e poi andate anche a rileggere le leggende di cui è costellata questa tragedia perché davvero qui ci sono molti spunti si narra che bellerofonte abbia catturato il cavallo alato pegaso col quale riuscì a uccidere chimera e poi ci sono riferimenti al mito di sissifo alle vicende del vello d'oro che coinvolge Giazzone e gli argonauti Medea lo aveva aiutato come dicevo prima nelle difficili prove imposte dal re e Giazzone doveva arare a giocare all'aratro due tori dagli zoccoli d'oro spiranti fuoco dalle narici e poi doveva arare seminare denti di drago dai quali sarebbero sorti dei guerrieri un'immagine meravigliosa armati che l'eroe avrebbe dovuto poi a sua volta uccidere dopo averli così seminati e creati Giazzone grazie ai filtri di Medea riuscì a soggiogare i tori perché era diventato invulnerabile proprio sul consiglio della maga gettò poi un sasso sui guerrieri che si uccisero tra di loro cioè davvero pazzesco questa narrazione stimola ogni ogni fantasia ogni visione ogni immaginario è un caso unico nell'ambito della tragedia greca viene fatto notare è quello invece che la nutrice reciti la parte espositiva del prologo e mettendo a conoscenza il pubblico delle condizioni di questa svendurata Medea e facendo trapelare il giudizio di condanna verso il marito Giazzone che risulta un personaggio colpevole adultero fino al rovesciamento finale dove invece appare solo la sua sofferenza anche qui il ribaltamento è una sofferenza toccante niente da dire di padre e molto intensa e qui bisogna dare un minimo spazio a lui perché comunque ho ritrovato proprio questa espressione molto molto vera molto toccante o abominio o donna sommamente la più odiosa agli dèi a me a tutto il genere umano tu che hai avuto l'ardire di vibrare la spada contro le creature che tu hai generato e anche a me hai tolto la vita privandomi dei figli e tu compiute tali cose e dosato l'impresa più empia rivolgi ancora il tuo sguardo al sole e alla terra possa tu morire e quindi sono personaggi davvero compositi e nonostante la forte negatività e l'altrettanto intensa denuncia sociale e personale che può risultare diciamo greve e comunque nonostante tutto ciò dispiace dispiace abbandonarli porre fine a questo viaggio uno strano effetto e non so se questo era voluto o meno da Euripide però nella lettura e forse anche nella rappresentazione non le ho mai viste rappresentate si genera proprio questa situazione in cui nonostante la pesantezza e l'angoscia e l'ambascia però non si vuole abbandonarli vedete voi come viverli ma assaporaterli davvero e grazie per questo viaggio e per questa possibilità che mi è data di sognare insieme a voi e di indagare insieme a voi figure di questa portata davvero grazie namaste alla prossima